Bellissimo campionato, abbiamo il tempo per rimediare, quindi non preoccupate, alla fine ce la faremo anche quest'anno. L'importante è stare tutti quanti insieme perché abbiamo questo grande obiettivo di portare e lasciare la SPAL sempre in Serie A con la città di Ferrara entusiasta per queste cose. Grazie. Grazie mille, press!